Nella tarda serata di ieri i carabinieri della stazione di Santa Cecilia di Eboli hanno arrestato un 27enne di nazionalità marocchina pregiudicato e domiciliato in zona Campolongo. A seguito di perquisizione personale e locale, svoltasi con l'ausilio dei carabinieri della stazione di Capaccio, il giovane è stato trovato in possesso di circa due chili di ascisce. Condotto in caserma per l'espletamento delle formalità di rito, il 27enne è stato trasferito presso la propria dimora in regime di arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida così come disposto dall'autorità giudiziaria.